Buongiorno mondo, io sono Catarina e benvenuti sul mio canale! Oggi parto per le vacanze estive e vado al mare, ma questo video non è per questo! Infatti prima mi è arrivata la mail che mi è arrivata a casa la targhetta di YouTube di G7000Scracker! Quindi, visto il tempismo perfetto, adesso io sono a casa del mio ragazzo, prendiamo la macchina e andiamo a casa mia a prendere la targhetta e non ho intenzione di scartarla, bensì le facciamo fare il viaggio in macchina fino al mare e la scartiamo direttamente davanti al mare! Perché questa coincidenza va premiata, mi è arrivato giusto 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 oggi che parto stasera, se fosse arrivato domani avrei dovuto aspettare che tornassi dalle vacanze, invece è arrivato oggi! Sono felicissima, adesso partiamo, andiamo a prenderla e vi porto con me in questo viaggio e alla fine lo scartiamo al mare. Era troppo casato! È arrivata la targhetta di 100.000 iscritti! Andiamo! Voi non siete pronti, io non sono pronta! Noi non siamo pronti, ma è arrivato sul serio! In questo momento la sto tenendo in mano, sentite! E' lui! 3, 2, 1! Non ci posso credere ragazzi! Non ci credo veramente, è un sogno, sembra irreale! Lo so che può sembrare una cosa forse un po' sciocca, però sono troppo contenta! Oh mio Dio, non ci posso credere! Grazie, 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 grazie! Questo è tutto merito vostro, non smetterò mai di ringraziarvi! Sono, ho la vita piena! Sono veramente felice, contenta! Il mio cuore è pieno di gioia, pieno d'amore, pieno di felicità! Mi è venuta un'idea! Questa roba qua ha tre parti con tre nastri adesivi, adesso io ne apro una in casa, l'altro a metà strada del viaggio e l'altro ancora quando arrivo, ok? Quindi sarà letteralmente tutto aperto, questa sera a mezzanotte circa, però lo aprirò così, oh mio Dio, soltanto al mare, però nel mentre inizio un po' a spacchettarlo! Ok, siamo pronti! Non si vede niente! E adesso aspettiamo di arrivare a metà del nostro viaggio per aprire il secondo nostro adesivo e poi per arrivare aprire l'ultimo e poi per arrivare i domani mettire al mare e scartarlo del tutto insieme! Visto che comunque sarà un viaggio lunghissimo e interminabile, per questo anche sono un po' tipo che palle di dover aspettare così tanto, però lo faccio! Ho intenzione di fare il 24 ore in macchina, che non sarà bene 24 ore, però comunque 24 ore in macchina, quindi stavo guardando un po' in camera cosa potevo portare in macchina da fare nel video e ho trovato il flauto! Vieni a vedere la targhetta! E se è rotta e se è rovinata! vai alzala come cannavaro ha alzato il mondiale ho stop alzati in piedi al salato al mare alzala sono tornata a casa dal mare questa è la cosa più bella di oggi e niente sono un po' così grazie è tutto merito vostro il video finisce qua io spero che vi sia piaciuto se così lasciato mi piace se non è così lasciatelo lo stesso tanto non vi costa niente rende felice mi raccomando iscrivetevi al canale così arriviamo subitissimissimissimo a 200.000 iscritti commentate condividete vogliatemi bene vogliatevi bene io vi ringrazio tanto 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 vi mando tanti 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 bacioni e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao